Ancora un duro colpo allo spaccio di droga a Campobasso, quello assestato dalla procura coordinata da Nicola D'Angelo e dagli agenti della squadra mobile con a capo Raffaele Iasi. Un'operazione imponente, 146 agenti operativi dalle 4 di stamattina, il culmine di un'attività di indagine partita a dicembre del 2018 e durata oltre sei mesi e che continua. Quella di oggi è l'operazione Pinocchio dal soprannome di uno degli arrestati coinvolte le province di Campobasso, Isernia, Chieti, Roma, Bologna, Caserta, Foggia, agenti di più squadre mobili impegnati, personale di reparti prevenzione di Napoli e Roma, tre squadre cinofile, da Pescara un elicottero da Bari, una settantina le perquisizioni personali e domiciliari, sei le misure cautelari emesse, tre le custodie cautelari in carcere eseguite per Massimo Amorosa, 43 anni, detto appunto Pinocchio, Margherita Mandato, 38 anni, detta Giussi, già in carcere, i due vertici, e per Francesco Colozzi, 38 anni, due i divieti di dimora in Molise eseguiti per Paolo Bencivenga, 21 anni e Sarai a campo, 22 indagate, altre 13 persone tra Campobasso, Boiano, Frosolone e Sansevero. Solo a Campobasso l'indagine ha portato ad eseguire 49 perquisizioni personali ad assuntori e trovati alcuni grammi di eroina, ascisce e marioana e un bilancino. Fondamentale, ha detto il dirigente della squadra mobile Raffaele Iasi, la collaborazione dei cittadini del quartiere Venezia che avevano segnalato un via vai di persone giorno e notte al civico 9 di via Quircio dove la coppia, Amorosa Mandato, gestiva lo spaccio come se fosse a scampia. C'era chi tagliava, pesava, confezionava, smerciava la droga acquistata nel Foggiano, Napoletano e Casertano. Si faceva credito addirittura. C'erano vedette per segnalare la polizia. C'era tutto un apparato intorno di chi evidentemente anche assumeva stupefacenti per cui in cambio si prestava magari a fare da vedetta. Poi anche i palazzi li sono fatti in modo che soprattutto nel periodo estivo con le porte aperte, con i balconi, la gente sui balconi notava subito se uno accedeva diverso dagli abitanti della strada, nella strada e quindi se arrivavano ormai le macchine della polizia e i carabinieri conoscono anche quelle non con i colori istituto. Per cui bastava entrare nella strada e già il segnale partiva e quindi se c'era da buttare, da cestinare eccetera, lo facevano. Amorosa comunicava in codice sui social e utilizzava microtelefonini da portare anche in carcere in caso di arresto con distorsori di voce. Dava droga anche al figlio e ai nipoti da spacciare o consumare, approvvigionamenti ciclici per gestire il market al meglio, il bazar dello stupefacente. Amorosa è mandato, si sono poi separati, giù si ha scelto più piazze anche in centro, bed and breakfast. Lo stesso ha fatto Pinocchio anche in un paese limitrofo e in via Monte Grappa e San Giovanni. Quando uno si sente pressato, se inizialmente spaccia in casa e ci sono le lamentele dei vicini, litigi con i vicini eccetera, si sposta su altri lidi e quindi anche a volte prendendo B&B, camere, alberghi o facendolo per strada, anche in pieno centro dove magari è meno notato che in altri posti. La donna addirittura portava con sé a Caivano al Parco Verde per rifornirsi di droga il figlio di due anni come scudo usato in caso di controlli della polizia. Il piccolo l'è stato tolto ed è in una struttura protetta. Colozzi e Bencivenga erano i fornitori di droga. Della piazza Campobassana, da Foggia e Napoli, la Iacampo li fiancheggiava e operava anche su Boiano. Dalle intercettazioni sono risultate anche le pressioni di Bencivenga e le sue proposte di piazzare nel capoluogo una nuova droga redditizia che avrebbe spaccato, diceva.